collega Marco Pannella che è stato con noi molti anni, molti anni, che ha collaborato con noi tanto tempo che ho conosciuto personalmente. Signore e signori, lo considero un uomo appassionato, un uomo straordinario. La sua passione l'ha dedicata ai diritti degli uomini, al pacifismo, alla società è stato uno che ha combattuto contro la pena di morte, a favore dei diritti dei carcerati. Si è sempre battuto per la difesa di diritti umani, è stato un grande difensore per la parità di diritti tra uomini e donne. Marco Pannella è stato per noi un grande europeista ed è stato al di là di ogni partito, di ogni colore politico, al di là di ogni confine, anche di quelli italiani. È stato un pioniere politico e il suo spirito critico molto spesso ha aperto, ha schiuso dibattiti molto controversi in Europa, in tutta la società europea. E con Marco Pannella l'Europa perde un uomo deciso, un grande sostenitore. Tra noi abbiamo qui amici intimi, collaboratori, che hanno partecipato al suo lavoro e che lo continueranno. E a loro tutte le nostre condoglianze e queste condoglianze le esprimo a nome di tutto il Parlamento e a tutta la famiglia di Marco Pannella. La nostra piena partecipazione.